Come dermatologo sono sempre stato attratto quindi dall'estetica ma anche dalla tecnologia e oggi credo che le due cose siano molto correlate tra di loro, quindi dal punto di vista diagnostico terapeutico è imprescindibile l'ausilio di macchinari sempre più moderni, come per esempio possono essere gli ultrasuoni focalizzati anche sul corpo dove però non si agisce attraverso un effetto termico quanto acustico, inducendo la rottura della membrana della cellula adiposa permettendo quindi di ridurre la adiposità localizzata. Allo stesso tempo possiamo utilizzare un altro medical device per il contouring, quindi per la cellulite, per la lassità cutanea e questo, uno dei medical device che io utilizzo, si avvale di una radiofrequenza bipolare con un infrarosso e un massaggio cutaneo con vacuum e il rullo, il tutto al fine di dare quello che è un corretto apporto meccanico su quello che però deve essere comunque uno stile di vita corretto. Oggi abbiamo tanti trattamenti da poter utilizzare in sinergia o singolarmente, basta affidarsi a un professionista capace di individuare quella che è la problematica e quindi il trattamento terapeutico migliore. Grazie a tutti! Grazie a tutti!